Sandro ferma l'auto di fianco al marciapiede nel bel mezzo della città. «Credevo che stessimo andando a casa», dice Mike. «A casa? A fare che? Niente. Appunto. Qui invece che facciamo?» «Vieni con me», dice Sandro. Scendono. Sandro richiude l'auto e lo conduce fino alla porta sontuosa di un caffè. «Vuoi entrare qui?», chiede Mike. «Certo, tanto per cominciare abbiamo bisogno di un caffè. E poi tu devi fare un'altra cosa». «Io?» «Sì, tu». Entrano. Il locale è scuro. L'arredo è quasi interamente in legno. Luci fioche e arancioni rendono l'atmosfera insieme rilassata e inquietante a un tempo. Quel posto sembra arrivato direttamente dal secolo scorso di colpo, senza aver attraversato il tempo. Un giovanotto completamente vestito di nero si avvicina loro con un quaderno rivestito in pelle e una penna che sembra importante. Sandro nota che è stilografica. L'avrebbe notato anche Mike, se non fosse rimasto con lo sguardo basso da quando sono entrati. «Prego», dice soltanto, in tono compito ma informale. «Due caffè, doppi», dice Sandro. E aggiunge «carta e penna, per favore». Mike alza finalmente lo sguardo. «Che c'è?» risponde Sandro alla domanda muta dell'altro. «C'è un motivo se ti ho portato qui. Lo sai anche tu?» «No, non lo so». Restano per un po' a guardarsi senza parlare. Intorno c'è un silenzio irreale. Le poche persone presenti, due coppie, tre da sole, in uno spazio che potrebbe contenerne duecento, sembrano non respirare nemmeno. Perfino i giornali sembrano non far rumore nelle mani di chi li sfoglia. «Questo è il caffè più antico della città», dice Sandro. «Scrittori, cantanti, artisti di ogni tipo venivano qui a prendersi una pausa, a riflettere, a buttare giù le opere che anni dopo li avrebbero resi famosi. Lo fanno ancora». «L'altro lo guarda come se stesse dicendo una cosa incredibilmente fuori tema. Ho una boutade di quelle dalle grandi promesse che però poi non fanno ridere nessuno. Sono stanco e avvilito», gli sta dicendo con gli occhi. Il giovanotto arriva al tavolo con un vassoio, porge loro i caffè, appoggia blocco e penna davanti a Sandro, poi va via. Lui li fa scivolare con la mano fino all'altro capo del tavolo. «Giuro che non ti capisco», dice Mike. «Hai sentito quello che ha detto il vecchio pazzo?» «Chi, Patrizio?» «Lui, sì». «Ha detto che tutte le storie sono vere». Non era solo questo. Ha detto anche che quando immaginiamo una storia, in realtà stiamo ricordando qualcosa che è già accaduto da qualche parte, anche se non eravamo lì. È un'assurdità. «Noi che ne sappiamo», obietta Sandro, «forse è questo il lavoro della fantasia. Forse è questo che chiamiamo creatività. Chi può dire come funziona veramente? Ma il punto, qui, è che non abbiamo alternative. Quel tizio, poco fa, diceva la verità, non ne sapeva niente. L'hai visto anche tu». «Dobbiamo andare dalla polizia, subito», dice Mike. «È passato anche troppo tempo». «Ne abbiamo già parlato. È troppo pericoloso», dice Sandro. «E poi, pensaci un attimo. Tu non sei uno qualunque a cui si chiede di immaginare una storia qualunque. Tu sei uno scrittore di professione. E questa storia riguarda te e tuo figlio. Nessuno può avere più probabilità di successo di te. Tu stai dando per scontato che il sistema funzioni. Sto solo dicendo che dobbiamo provarci. E che vuoi che faccia, esattamente? Anzitutto ci devi credere. Diamoci dentro. Se va male, passiamo oltre. E poi? E poi? Mica devo venire a dire a te come si scrive una storia. Prova a immaginare. Chiudi gli occhi. Senti l'ispirazione. Concentrati. Da nessun'altra parte in città puoi trovare più silenzio che qui. Devi solo prendere la penna e cominciare a scrivere. E poi? E poi? E poi? E poi? E poi? Grazie.